La personalizzazione dei servizi è per creare qualche altra clinica privata in modo che la riabilitazione non la facciamo nel pubblico ma la facciamo nel privato. Questo è il mio pensiero, spero che non sia così e spero che il direttore generale venga a spiegarlo nelle sedi ufficiali. Io voglio vedere, abbiamo fatto con i numeri, andiamo avanti, questo ospedale chiude, questo ospedale apre perché non fa un totto i numeri. Io voglio capire per quale motivo c'è stato questo assetto nuovo della sanità ragusane in base a quali numeri, qual è il risparmio e qual è il guadagno a questo punto. Io vi ringrazio, sono qua per qualsiasi altra domanda.